Buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo ad Amazon. Come sempre, prima di tuffarmene all'argomento di oggi, voglio ringraziarti davvero di cuore per la tua presenza, per il tuo supporto e anche ai nuovi abbonati, ovvero Giuseppe, che è il terzo abbonato del canale. Quindi, siamo arrivati a tre, veramente, un grazie di cuore. Via via che vi abbonate, riuscirò anche a crescere, a reinvestire, ovviamente, questa liquidità per tutto questo progetto, insomma, per darvi sempre più valore. Quindi, non è solamente un modo per voi per ottenere, ricordo, con l'abbonamento al canale, la risposta prioritaria ai commenti e, allo stesso tempo, essere ringraziati pubblicamente, ma anche un modo per sostenere tutto questo percorso. Inoltre, voglio ricordarti che se sei già un seller che ottiene risultati e vuole crescere, rimanendo aggiornato con sistemi, eccetera, eccetera, eccetera ti consiglio di dare un'occhiata a Leaf, ok? Troverai il link direttamente nel primo commento e quindi ti consiglio di dare un'occhiata, veramente, tantissimo valore. Inoltre, dopo sei rinnovi potrai pubblicare nel gruppo Facebook al quale ti invito, appunto, ad iscriverti che è gratuito questo gruppo qua su Facebook dove, appunto, dopo sei rinnovi sul Leaf potrai pubblicare come esperto del gruppo, ovviamente, se rispetterai i requisiti sostanzialmente. Ti basterà contattare gli amministratori. Comunque, questo gruppo Facebook è gratuito, ti consiglio ad ogni modo di iscriverti, ok? Per, appunto, ottenere un supporto gratuito da parte anche di altri seller e account manager esperti. Bene, detto questo ci tuffiamo nell'argomento di oggi e, come sempre, ovviamente, ti invito ad iscriverti al canale, mi raccomando, se ancora non sei iscritto è lasciare un like se questi video ti piacciono, ma oggi voglio parlare di un argomento molto importante, ovvero cosa succede quando ci sono degli altri seller che si attaccano, si agganciano alla tua pagina prodotto e ti vanno a rubare delle vendite, ok? Questa cosa qui succede spesso a chi non ha il marchio registrato, perché chi ha il marchio registrato, ovviamente, magari lo sai o magari no, quello che succede è che con il marchio registrato sei tutelato da Amazon, quindi è difficile che uno riesca a collegarsi alla tua pagina prodotto, perché Amazon gli chiederà delle fatture di acquisto, comunque di mandarti una richiesta di approvazione per vendere, insomma, fatto sta che con il marchio registrato è molto difficile che accada, a meno che uno non vada a vendere esattamente il tuo identico prodotto. Ma in quel caso può farlo e te potrai comunque rivalerti se hai un'esclusiva e così via. Però oggi tratteremo l'argomento più, quello che più spesso accade, cioè io mi registro su Amazon, quindi come seller, non ho il marchio registrato, inizialmente magari, e quello che succede è che nonostante io stia vendendo e così via, in sostanza quello che succede è che mi si attacca un seller, alcuni lo chiamano in America hijacker, quello che è, insomma, un dirottatore, meglio detto, che si attacca alla pagina prodotto e rischia anche di farci prendere recensioni negative. Bene, oggi ti andrò a far vedere esattamente come si fa per andare a cercare di rimuoverlo. Non è sempre possibile, perché ti ricordo che Amazon non sempre ti accoglie, non sempre è lì che ti aiuterà, però comunque sia è giusto che tu sappia la giusta procedura, in modo tale che poi vedrai te in autonomia se applicarla oppure no. Comunque voglio ricordarti che la procedura che ti farò vedere è data dal mio account di prova, ok, seller di prova, quindi lo utilizzo solamente per fare i video qua sul canale. Inoltre, ripeto che i miei video sono tutti improvvisati, molto random, quindi li andremo a vedere insieme, non ti aspettare tagli e così via, perché per me la trasparenza e la naturalezza nei video è una delle cose più importanti. Quindi se ci sono errori grammaticali o quello che ti pare, chi se ne frega. Bene, inoltre voglio dirti una cosa molto importante prima di farti vedere come si fa a rimuovere un competto. Uno dice, sì, ma Andrea, tuffiamoci nel video di oggi. Sì, assolutamente, però devo dirti che il business è un tuo riflesso, quindi è più facile che un dirottatore si colleghi alla tua pagina prodotto se ovviamente dentro di te non sei in pace. Dice, cosa c'entra? Beh, in realtà è proprio così. Fuori è sempre un tuo riflesso. Se te dentro hai dei traumi non risolti, se hai una guerra interiore dentro di te per cose tue, traumi di quando sei piccolo o non accetti un qualcosa, insomma, tutti questi blocchi interiori fanno sì che generano blocchi esteriori. Quindi fai molta attenzione a questa cosa qua, perché spesso la soluzione non va trovata fuori, ma va trovata dentro di noi. Via via che ami di più te stesso, gli tuoi risultati aumenteranno. È una conseguenza, quindi non aver paura, ognuno è nel suo processo ovviamente, però questo è molto importante ed è giusto che tu lo sappia. Bene, come facciamo? Facciamo finta che, ovviamente prendiamo ad esempio questa volta mouse, non sono tappetini da yoga, perché ogni tanto bisogna variare, perché anche nei mouse è più semplice trovare offerte con più seller collegati, come esempio. Quindi facciamo finta, ad esempio qui ci sono 65 seller, ecco come faccio a vederlo? Con questa estensione qui è Helium 10, solamente chi ha Helium 10 scaricato, anche come estensione ovviamente, potrà vedere questa banner qui, che giudice a colpo d'occhio sia il mercato di origine, non per tutte le offerte, e ci fa vedere quanti seller ci sono, come è gestito la spedizione, in questo caso è Amazon stesso, quindi non FBA, ma è proprio Amazon stesso il, diciamo, quello che lo sta vendendo, quindi un vendor, diciamo, e quindi ti consiglio, mi raccomando, se ancora non ce l'hai di scaricare, Helium 10, lo trovi anche questo nel primo commento, non si può vendere su Amazon senza un software adeguato, mi raccomando, quindi scaricatelo assolutamente, lo trovi con il 20% di sconto, per i primi sei mesi, quindi mi raccomando, vattelo a prendere, e potrai avere questa estensione, ma tante altre funzionalità, che ho trattato in altri video, e qualcosa ti linko, qua sopra di random, così gli dai un'occhiata, bene, facciamo finta che questa sia la nostra offerta, ok, stiamo vendendo questo prodotto, ovviamente questo è un prodotto Logitech, ad esempio, col marchio registrato, ma noi facciamo finta, che sia il nostro prodotto, senza marchio registrato, quindi se noi ci clicchiamo dentro, ti farò vedere le soluzioni, ok, qui come vedi, ci sono le altre offerte, confronta offerte su Amazon, quindi ci sono altri venditori, qui cliccando su un nuovo e usato 65, se noi ci clicchiamo, stiamo controllando se il microfono era effettivamente attivo, se ci clicchiamo, dovremmo vedere tutte le altre offerte, adesso sto registrando, quindi magari è un po' più lento, però andiamo a vederlo insieme, qua vedi ci sono le altre 64 opzioni, quindi 65 in totale, e le altre 64 opzioni, ovviamente questi stanno tutti vendendo lo stesso prodotto, ma è un prodotto magari in retail, perché comunque è un brand famoso, quindi altri si collegano, ma non è il nostro caso, noi facciamo finta che questo è il nostro prodotto, senza, quindi con il marchio, facciamo finta il marchio Logitech, ma non è registrato, ok, attenzione, non mi confondere, non voglio che vai a inserire un prodotto, su Amazon, con lo stesso marchio di uno già esistente, ok, devi avere il tuo marchio, ok, facciamo finta sia il marchio, Pinco Pallino, se no non è chiaro e si va a creare confusione, quindi il tuo prodotto, facciamo finta sia Pinco Pallino, e ci sono, si attacca un altro seller, ok, che potrebbe essere questo Goris Web Shop, quindi cosa facciamo noi? Allora, ci sono due strade che puoi fare, per cercare di staccarlo dalla tua pagina prodotto, la prima strada è quella di contattare il seller direttamente, quindi senza stare a scervellarsi come faccio qui di là, vai a contattare direttamente il seller, quindi clicchi sul seller, quindi facciamo finta sia questo, Goris Web Shop, ti aprirà un'altra pagina Amazon, eccolo qua, la pagina del seller ovviamente, con le sue recensioni e così via, e te cosa farai? Contatterai, cliccherai su contatta il venditore, e ti aprirà un'altra pagina, ormai vabbè, Amazon fa così, e poi qua cosa farai? Cercherai di andare a poter inserire un messaggio tuo, ok? Quindi non predefinito, ma andando direttamente a scrivere al seller di staccarsi. Come si fa? Si clicca su come possa aiutarti, un articolo in vendita, poi da qui dentro si va in altro, e da altro lui ci fa scrivere qua sotto il testo. Cosa scriveremo? Scriveremo semplicemente al seller che questo è il nostro prodotto personalizzato, è che per evitare che a lui possa arrivare una segnalazione da Amazon, di scollegarsi, ok? Quindi lo invitiamo in maniera gentile a staccarsi con rispetto dalla nostra offerta, perché spesso in genere, se abbiamo creato noi il marchio e tutto, è difficile che un altro sul mercato possa avere il nostro prodotto, in quanto siamo gli unici ad averlo creato, essendo il nostro prodotto, con il nostro marchio, insomma, creato da noi, è difficile che qualcun altro ce l'abbia. Quindi lo invitiamo a scollegarsi. Ecco, in genere, quello che succede è che, se il seller è in buona fede, magari si è connesso per errore, o perché non sapeva come funzionava, si scollega da solo. Quindi questo è il primo metodo che in genere funziona, se trovate una persona comunque corretta, che magari non aveva niente contro di voi, e semplicemente si è connesso perché il suo prodotto è simile, e non sapeva come funzionava. Quindi, in genere si può scollegare. Se invece non si dovesse scollegare, bisogna usare le maniere forti, cioè come? Si va sul nostro profilo seller central, si va in aiuto, e la cosa che consiglio di fare intanto è ordinare, quindi dal seller, quindi in questo caso ordinerei prima di tutto, un prodotto dal seller in questione. Quindi ordiniamo un articolo dal seller competitor, che se è attaccato alla nostra pagina prodotto, per verificare che effettivamente sia diverso, e vedrete che nel 90% dei casi è un prodotto diverso dal vostro. Cosa andate a fare con l'ordine e il prodotto che è diverso? Lo dovete segnalare ad Amazon, quindi lo devi segnalare ad Amazon. Come fai? Dal seller central si va dentro, si va in ottiene assistenza, vendita su Amazon, e poi da qua dentro, io una cosa che consiglio di fare, a prescindere che sia questo caso oppure no, quando contattate il supporto, quando contatti il supporto vai in alternativa, trova il problema navigando nel menu. In questo modo Amazon ti farà parlare con un dipartimento specifico, come vedi ce ne sono diversi, quindi è molto importante che tu utilizzi questa sezione qua per parlare con il dipartimento corretto in base al tuo problema, in questo modo eviterai lunghi tempi di attesa. Bene, cosa andiamo a fare per segnalare l'offerta? Andiamo in altri problemi, andiamo in segnala violazione delle offerte, come in questo caso, ci clicchiamo, andiamo qua dentro, andiamo in, qua sopra c'è un link, segnalare una violazione, non è molto visibile questo link, ma se ci passi lo vedi, segnalare una violazione, ci clicchi dentro, e Amazon ti guiderà in altri dipartimenti dove ti dicano per cosa segnalare. Ecco, nel nostro caso sta vendendo, abbiamo ordinato un prodotto dal competitor che si è collegato, vediamo che il prodotto è effettivamente diverso, quindi segnaleremo in, andiamo a vedere un po', i prodotti ricevuti sono diversi rispetto alla descrizione della pagina prodotto, quindi in questo caso sarà questo. Andiamo qua dentro a seguire quello che ci dice Amazon, ovviamente cosa faremo? Andiamo a specificare il motivo, in questo caso il prodotto è diverso, numero dell'ordine, metteremo il numero dell'ordine dell'articolo che abbiamo appunto ordinato da questo seller in questione, e poi andremo a descrivere il problema scrivendo in questa sezione qua esattamente quello che è successo, cioè metteremo il seller, in questo caso Goris, Goris Web Shop, si è collegato alla mia pagina prodotto, del Lasing, gli si mette il nome, il Lasing, cos'è l'Lasing per chi non lo sa, non è altro che il prodotto, cioè il codice del prodotto per Amazon, e lo puoi trovare, eccolo qua sotto, nelle informazioni, nei dettagli specifichi del prodotto, glielo vai a mettere, gli dici che il seller si è connesso al tuo Asin che sta vendendo un prodotto diverso e dall'ordine lo possono rilevare, e basta, ok? Gli dici di poter fare delle verifiche su questo seller ed eventualmente di farlo scollegare, quindi questo è quello che farai, e allo stesso tempo rimanderai un altro messaggio al seller dicendo che hai fatto partire una segnalazione. Ecco, questo è il modo, un altro dei modi migliori per tutelarsi è fare in modo che Amazon agisca per rimuovere un eventuale dirottatore dalla tua pagina prodotto, invierai e poi aspetterai che Amazon proceda. Non sempre Amazon agisce, ma alle volte agisce, a me è successo diverse volte, e va a rimuovere il seller mandandogli una bella segnalazione, quindi onde evitare che lui possa rifarlo, però questo è uno dei modi per chi non ha il marchio registrato. Ovviamente se invece hai il marchio registrato, la segnalazione la potrai fare semplicemente dal tuo brand registry che puoi accedere dalle informazioni dell'account andando in gestisci le tue marche e poi da qua dentro cosa vai a fare? Ovviamente qua non me lo fa vedere perché io non ho marchi registrati in questo dal mio account di prova, quindi però in alto avrai proprio la sezione per segnalare una violazione e segnalare una violazione direttamente da qua dentro e quindi qui ovviamente Amazon agisce praticamente subito e nella maggioranza dei casi avendo il marchio registrato agisce quasi con certezza, ok? Se non ti prendono per una motivazione ne provi un'altra e alla fine diciamo che ce l'hai vinta. Ora dipende, sto parlando per esperienza personale in genere agisce sempre anche se magari un seller sta vendendo il tuo stesso prodotto è lo stesso identico ma se ti hai un'esclusiva puoi segnalare tra le violazioni del brand registry che il prodotto che sta venendo venduto diciamo non è autorizzato a essere venduto da altri venditori nello spazio economico europeo e quindi comunque sia Amazon lo rimuove anche se è lo stesso prodotto. Quindi ecco questa è un'altra cosa che puoi fare ovviamente con il marchio registrato le cose sono molto molto più semplici. Però ricapitolando come si fa un seller si collega alla nostra pagina prodotto non abbiamo il marchio registrato prima cosa contattiamo il venditore lo facciamo con le buone poi successivamente utilizziamo la sezione di aiuto del seller central per andare a segnalarlo come ti ho fatto vedere direttamente. Bene per questo video è tutto direi io ti ringrazio per la visione mi raccomando lascia un like ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo in un prossimo video di valore su Amazon. Un abbraccio di cuore e noi ci vediamo